segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te dei film ti è successo tante volte di ingrassare o di dimagrire a comando ecco le patate fritte no ecco le patate fritte quando dimagrisci no magari ecco ma ci dai qualche qualche consiglio a tutti per una dieta perché tu quante diete fai nel corso di un anno? abbastanza sia per lavoro che anche per mantenermi insomma no il consiglio che do è che comunque non esiste una dieta che vale bene perché funziona per tutti cioè comunque è sempre bene farsi seguire da una persona che si occupa di questo e le nostre analisi ti possono dire quello che fa bene per te che quello che va bene per me sia per le tue condizioni ma anche per le tue capacità di metabolizzare dei cibi o meno io facendolo per lavoro in questo caso per esempio stiamo parlando di un equipaggio che parte e che piano piano finisce quanto della disposizione a bordo quindi ho perso peso gradualmente e man mano avendolo a volte recuperare perché magari le scene che giravamo erano prima è quello che penso le scene non vengono girate tutte in ordine no però non è un fatto solo di virtuosismo è insomma il cambiamento di peso genera delle energie diverse del tuo corpo genera un respiro diverso un battito del cuore diverso e tra l'altro penso che aiuti anche il pubblico a credere di più alle condizioni di vita di questi uomini insomma si vede che c'è una magrezza del volto che adesso non ho e che non rimpiango particolarmente devo dire la verità però insomma ci penso che sia un modo di capire in una maniera diversa per un attore il corpo di un attore è una uno strumento di comprensione a volte più efficace fatti cosa dimagrino ingrassare alla fine io ho avuto più difficoltà di ingrassare ma l'ho fatto qualche tempo fa adesso credo che non avresti questo problema senti questo ci fa capire che cos'è nel mondo del cinema e invece in queste ore diciamo non c'è non c'è